Un vero applauso per tutti gli ospite da Trieste, del team Loreni Olab, l'angelo piccatore Fabio Fabio, ex capione italiano, fidanzi al titolo internazionale a IBS Ricordo che l'incontro è previsto sulla distanza delle sei riprese da tre minuti Grazie a tutti Fuori i secondi, seconds out È la seconda ripresa Grazie a tutti Usa il diretto destro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti